La gestione delle acque in relazione ai cambiamenti climatici, all'inquinamento, alla bonifica e alla riqualificazione di un territorio. Venezia si è confrontata sul tema con quattro città cinesi riconosciute patrimonio UNESCO che sorgono sull'acqua e nelle quali è passato Marco Polo. Dalle Dolomiti al mare è un appuntamento annuale, promosso dal Comune di Venezia e dal CAI di Mestre a Calalzo di Cadore, come momento di confronto, approfondimento e scambio di esperienze che vedono al centro l'acqua, risorsa fondamentale ma non infinita e sempre meno disponibile. Abbiamo capito dagli interventi che sono stati fatti questa mattina che il problema dell'acqua è un problema globale. Città con altre dimensioni, milioni e decine di abitanti, però il problema dell'acqua rimane importante per tutti. Il modo in cui abbiamo approcciato questo seminario è stato quello di cercare di portare l'attenzione sulla gestione dell'acqua, sulla gestione in questo caso proprio fisica, cioè in che modo la soluzione adottata da Venezia attraverso il sistema Mose ha consentito a Venezia di passare ad essere tra quelle che erano le città più minacciate da questi fenomeni ad essere in realtà invece almeno per un po' di decenni tra le città più protette del mondo. Grazie a tutti.